Salve a tutti e ben ritrovati Allora, per andare ad approfondire meglio gli argomenti in questione della partita bella che c'è stata ieri sera abbiamo un grande onore di avere un ospite molto speciale è qui vicino a me è un grande, grandissimo tifoso della Roma un tifoso un po' giovane per così dire ma ci teneva tanto a dire la sua perché ieri ha visto quasi tutta la partita e quindi vuole dire la sua insomma allora, cari a voi io vi presento Giulia Caruzzini mettiti seduto Ciao a tutti Ciao a tutti io sono Giulia allora come rappresento tu la Roma metteva un fendi così la Roma allora in calcio se ne mette in calcio se ne mette un po' attraverso e allora il pallone va all'altra parte Uma lo prende ma poi ha preso un calcio ce l'ha mandato su un portiere e ha fatto un bel gol e ha presentato e ha fatto su Roma quattro gol si manca solo un po' di alti e allora della Micralla potrebbe uscire un po' l'alto un po' l'alto come come ah come la Roma vi si presenta tra della Macimiglia e allora così l'ultimo gol si presenta alla Roma ma poi in pallone scivola un alto versaglio e poi da un calcio con un l'alto e allora troverà un più bello fan allora come ha giocato la Roma ieri ti è piaciuta si ha giocato molto bene soprattutto al secondo tempo vero si purtroppo è mancato solo un gol si allora ha perso no abbiamo vinto però siamo usciti come siamo usciti siamo usciti dalla coppa peccato ma faremo meglio il prossimo anno vero il prossimo anno la vinciamo sta coppa eh va bene questo lo dobbiamo ancora vedere se vinciamo il prossimo anno la coppa andiamo a Roma a festeggiare con tutti i tuoi cugini che dici scusami ma allora si vorrà tantissimo quando siamo a Roma eh lo so un anno un anno solo e andiamo giù a Roma a festeggiare la coppa campioni la Champions League beh allora è più facile saluta ciao 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 ci vediamo dopo a una prossima volta ma poi la Roma vincerà a me al prossimo anno forza Roma forza Roma ciao